io guarda lo sapevo che quando inviti qualcuno da fuori sempre in ritardo cioè siamo tutti pronti e tocca aspettare sempre a lui ma io non lo so guarda quasi quasi lo lascio qui ma io non lo so non lo so Grazie a tutti Hey guys Oggi Nuovo vlog Vlog numero 2 Oggi a farsi male sul conero Ma prima Secondo me è normale Ma prima Caffettino Va che posticino Ma oddio un mostro Ah no Va che posticino Quasi quasi vi aspetto qui Voi andate su Caffettino per riempire la gamba Lo zucchero fa male E l'acqua così dopo fai pipì In giro Va che caffettino Viviamo Via ragazzi Partiti in questo nuovo giro Cosa Uscirà Mamma mia ragazzi Non ci richiamo più Vanno troppo Forte 162 battiti medi Io in salita La prossima volta li aspetto in cima con la macchina Vi non sto male? La voglia Intanto Il nostro campione del mondo se ne va Oh Merda Aspetta Aspetta Oh E riparte Ripreso Ripreso L'ho anche ripreso Miki Piccolo imprevisto Ma ci siamo Si è ripreso Ti si fatto male? Si si lo ripreso Lo metterò nel video Ha bugato Ha bugato Ha bugato dietro Miki No Qua Andri Mi fatto Cento Oggi Non è Giornata Merda E il primo è andato Non è niente Dai Con il sentiero del matto Pronti via Siamo tutti A quanto li gonfiate? Se io vuoi dare una sgonfiatella A 1.6 Vabbè Sgonfiatina le gomme Come tutti i veri pro Biker Lo fa Nino Lo fa Nino Schurter Lo fa Marco Herrero Fontana E lo fa il grande Andrea Busbani Miki Muovete Vabbè Comincia il bello Ragazzi Eh si Tra un po' È qui Ma è una macchina Ha eh eh che è il capo ci vuole le campanelle quelle che abbiamo ci vuole ci vuole il casco integrale sempre qui a destra lì andate un po' a destra seguitemi no Matti va a scampanino ma va a ceteo oh polizella eh polizella a polizella a poliz ha fatto male? ho fatto tutto è quasi finito però il peggio è passato è bello un bel po' è bello un bel po' bella lì palo della marina non c'è una mazzurra non c'è un bel po' è un bel po' Occhio allora chi vuole chi vuole può andare giù oppure se passa qua ditemi voi Comunque continua bello il sentiero Andiamo qua Andiamo qua Questa era bella ingerapata eh Sì Torniamo su? Sì Che ne pensate del palo della marina? Era di andare a destra Ma è tranquillo qua La prossima facciamo quello a destra Eh quando si stringe le chiappe si stringe le chiappe amici Ti sembra un comportamento giusto avermi fatto mettere il piede a terra? Ah bella o lo metti tu lo mettevo io per te ho deciso che lo mettevi tu Questa è la è la onestà degli amici 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 e poi ti rubano la bici Eh ma adesso adesso li prego Si fa sentire si fa sentire Però se non muoio io ho preso la posizione Allora ragazzi tanta fatica Fè Porto nuovo il trave Va bene Eh sono il porto nuovo Quella striscia là è il trave amici Si Che ne pensate? No Bello? Vi piace? È il zavalle quella con calami è il zavalle Se non fa sempre il capicciolo No perchè sono stato ci dormito una notte Ah beh Con chi? Con la famiglia Ah Con un tenda Per lavoro No no Però mentre loro dormiva Messo al sato Dillo qui Mentre loro dormiva messo al sato era tipo le 3 di notte C'era un gruppo dei ragazzi di ventenni Che stava a festeggiare ma invitato C'erano le ragazze Dai bevi un goccetto di vicolo Eh Adesso ho capito tante cose del perchè sei cucito Oh il vino era buono però Ahahahah Non posso parlare Non posso raccontare Eh non dite cose che nel vlog non posso mettere eh Eh vabbè Dopo questa perla ricominciamo con i sentieri Voilà Ragazzi via con il sentiero Seghini DH E curvette destro e sinistra Siamo Pronti? Inizia ufficialmente Si Ok No 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 pezzo molto guidato ragazzi però è anche molto scorrevole molto bello come sentiero scalini radici un po polveroso oggi quindi pressione delle gomme un po più bassa conveniva forse già un e 8 troppo alta come ce l'ho io che ho la tenuta fisica è quella è è il bello di ria dai siamo tutti ho mangiato il pedale ce l'ho fatta finché albero radice è quando è cinghiale che mi preoccupa anticipo non mi ricordo dove è ci dai no vai su allora che ce n'è un'altra le di ramazzio va bene va bene così non è facile ricordarli tutti poi impediti come siamo noi vi lancerete la sinistra sinistra ne sono andati via vale che ne pensi ma divertente piaciuto come no micchi impegnativo micchi beve sofferente il vino a casa se non lo faccio più te perché non lo faccio più perché perché troppo difficile si va verso la pecorara si va verso la pecorara non lo faccio più vai 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 ah che skin che da un rametto Occhio stai davvero lontano come posso bruciare Passiamo alle considerazioni Andrea bella bella andando in giro con i campioni che ne pensi dei sentieri, discese, salite, come è stato il ritmo? alto alto ma divertente quante calorie hai bruciato? 2000 in quanto tempo? due ore Michi, considerazioni, Michi già si cambia, Michi è finito l'ultimo tratto a 50 orari Vale? Vale non la sente? Vale sta bene, potrebbe fare un'altra due ore tranquillamente Un altro gire te lo farei Eh vedi, vai prendi la mia e vai Ragazzi, da noi, venite amici, è tutto Questi mi fanno morire Ciao